Salve a tutti, torniamo con un secondo video su appunto il nostro micro corso di logica elementare. Oggi parleremo, come si può vedere, di tautologie e poi introdurremo, oltre ad alcune definizioni, due metateoremi molto semplici ed intuitivi. Partiamo subito con una definizione di tautologia. Una tautologia è una forma proposizionale se e solo se essa assume il valore di verità vero per ogni associazione di valori di verità vero alle lettere proposizionali che la compongono. Dovete scusarmi ma nello scorso video ho utilizzato dei termini impropri come interpretazione. Da oggi utilizzeremo indistintamente i termini associazione di valori di verità e valutazioni delle lettere proposizionali. Ovvero sono i valori che, come abbiamo visto nello scorso video, noi assegniamo alle lettere proposizionali in una forma proposizionale per farne la tavola di verità. Quindi sostanzialmente non sono altro che le righe delle tavole di verità. Tornando alle tautologie, esempi molto noti sono ovviamente il principio di non contraddizione, che indicheremo con PNC, che appunto si formula così, non, a e non a. E il principio del terzo escluso, che apprezzeremo con il termine latino che è terzium non datur, non si dà un terzo caso. A o non a. Perdonate anche, diciamo, lo stile in cui scrivo i simboli. Spero che per il prossimo video potrò utilizzare come presentazione l'atec e quindi il pacchetto bimer che sto ancora imparando. Un ottimo esercizio per riprendere l'argomento del primo video, appunto, è quello di fare le tavole di verità di questi principi fondamentali di logica classica. Si noti che a questo punto siamo in grado di affermare che le tavole di verità sono un processo algoritmico per verificare se una formula proposizionale è una tautologia. Questo, diciamo, è un tema importante, poiché rende conto del fatto che l'insieme delle tautologie è decidibile. Ma evitiamo adesso di parlare di questo argomento perché ci porterebbe lontano. Magari spero di avere l'occasione di trattarlo, di trattare il tema della decidibilità in seguito, un po' più in seguito. Fornita la definizione di tautologia, possiamo passare avanti con altre definizioni, in particolare quella della contraddizione. Una formula proposizionale è una contraddizione se e solo se assume valore di verità falso per ogni associazione di verità a lettere proposizionali che la compongono. Quindi sostanzialmente una contraddizione, possiamo dire in maniera così gergale, è l'inverso di una tautologia, poiché sotto l'operatore principale della tautologia noi abbiamo solo come valore di verità il vero per tutte le righe. La contraddizione invece è il falso, scusate ma qui c'è un refuso. Il formulare dei controesempi è molto semplice, dato che l'operatore non inverte i valori di verità, ogni negazione di una formula proposizionale e tautologica è una contraddizione. Riprendendo gli esempi precedenti, la negazione del principio di non contraddizione e del terzium non datur, nella logica proposizionale classica, sono ovviamente delle contraddizioni, perché questo è evidente. Un'altra definizione che spesso non si dà, anche perché è ovvia, è quella di forma proposizionale e contingente. Una, molto semplicemente, molto banalmente, è una formula proposizionale e contingente quando non è né una tautologia né una contraddizione. Cioè, quando assume sotto l'operatore principale sia il valore vero che falso. Questa denominazione è legata alla nozione di mondo possibile. Significa, cioè, che sono logicamente ammissibili situazioni controfattuali per le quali la forma proposizionale è falsa, dunque non è una verità logica, che è un altro modo di intendere, un altro modo di chiamare la tautologia. Per comprenderci meglio, dal nostro punto di vista, questi mondi possibili alternativi non sono che valutazioni di lettere proposizionali che restituiscono il falso sotto l'operatore principale della formula, dove le suddette lettere occorrono. Insomma, è molto semplice. Ora passiamo ai teoremi. Il primo è davvero molto semplice, il secondo è un po' più complicato ma è comunque molto intuitivo. Iniziamo dal primo. Se le formule alfa e se alfa e allora beta sono tautologie, allora lo è anche beta. Questa dimostrazione si fa molto semplicemente per assurdo. Si assume, infatti, che vi sia un'assegnazione, si assume per assurdo, che vi sia un'assegnazione di valori di verità di alfa e beta tale che la valutazione di beta sia falsa. Per ipotesi, l'assegnazione di valori di alfa deve essere costruita solo e soltanto da valori veri, infatti è una tautologia. Ora che sappiamo cos'è una tautologia, sappiamo il nesso tra tautologia e la qualità dei valori che vengono assegnati nella valutazione della lettera proposizionale. Rimane aperta solo la possibilità che beta sia falsa, ma sempre per ipotesi, appunto, noi sappiamo che alfa, se alfa allora beta, è una tautologia. Se beta fosse falso, per le tavole di verità del condizionale che abbiamo visto nello scorso video, sarebbe falso anche se alfa allora beta. Ricordiamo che il condizionale è falso se capita che l'antecedente, cioè in questo caso alfa, sia vero e il conseguente sia falso. Ciò non è possibile nel nostro caso perché abbiamo per ipotesi supposto che se alfa allora beta fosse una tautologia e dunque non può assumere nessuna valutazione possibile e il valore è falso. Dunque beta deve essere necessariamente vero in tutte le valutazioni, non esiste una valutazione in cui è falso. Dunque è una tautologia. Passiamo a questo secondo teorema, che è un po' più complicato, ma comunque sempre molto intuitivo. Allora, abbiamo innanzitutto sia alfa una tautologia, e la indichiamo così, una tautologia. Sto evidenziando gli elementi, le ipotesi che fanno parte dell'enunciazione del teorema. In questa tautologia, quindi in questa formula, vi sono diverse lettere proposizionali. Ammettiamo a con 1, fino a un numero n di a, quindi si indica con questa lista, con questa che si chiama n-dupla. E siano alfa con 1, alfa con n, forme proposizionali qualunque. Quindi abbiamo alfa con 1 e alfa con n. Formule proposizionali qualsiasi. Queste sono lettere, quindi indicheremo dunque le lettere proposizionali con uno stampadello maiuscolo, e le formule proposizionali con delle lettere greche. Se beta si ottiene da alfa, dunque se beta si ottiene da alfa, per sostituzione di ogni occorrenza di a con i con alfa con i. Cosa stiamo dicendo? Allora, diciamo alfa, abbiamo detto che è composta da una serie di a con n, una serie di lettere proposizionali. Beta è semplicemente uguale ad alfa, solo che al posto di queste lettere proposizionali noi sostituiamo omogeneamente, cioè in ogni occorrenza, nell'ordine, una o tutte le formule proposizionali di questo elenco, di questa n-dupla. Fatto ciò, dunque spero di aver chiarito le idee, quali elementi sono in gioco, possiamo passare alla vera e propria dimostrazione. L'ho divisa in questi tre punti perché credo che siano i passi fondamentali della dimostrazione. Innanzitutto consideriamo una qualsiasi assegnazione di valori di varità alle lettere proposizionali in beta. Seguendo questa assegnazione arbitraria, ovvero w con 1, w con n, saranno nell'ordine i valori di a con 1 ed a con n. Da questo punto di vista ci siamo perfettamente. I valori di varità di beta in corrispondenza dei valori di varità di a con 1 ed a con n coincide con i valori di varità di alfa quando i valori di varità assegnati ad a con 1, a con n poiché per ipotesi beta è identico ad a se non per la sostituzione di a con 1 ed a con n con a con 1 ed a con n. Poiché alfa poi per ipotesi è una tautologia, allora anche beta sarà una tautologia. Diciamo che da questo punto di vista il teorema fila è intuitivo. Noi abbiamo una tautologia che di conseguenza indipendentemente dalla valutazione delle lettere proposizionali darà sotto l'operatorio principale tutti i valori di varità vero. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo sostituendo omogeneamente, cioè per ogni singola occorrenza, tutte le volte, una certa formula proposizionale che va a sostituire la lettera. In questo modo abbiamo trasformato la formula iniziale alfa in beta. È evidente però che se alfa è una tautologia, anche beta sarà una tautologia, per il semplice fatto che la sostituzione omogenea delle occorrenze non intacca la vera funzionalità della nuova formula, che ha la stessa forma logica beta, la stessa forma logica di alfa. Spero di essere stato chiaro, con quest'ultimo teorema chiudo questo secondo video e ricordo, cioè ripeto, che spero nel prossimo video di poter utilizzare degli strumenti più precisi, soprattutto per quanto riguarda il simbolismo e per questo mi applicherò nell'imparare il pacchetto Beamer di Latec, che serve per fare presentazioni. Nel prossimo argomento posso già anticipare che parleremo di un qualcosa di molto importante come le funzioni di verità e tratteremo ancora un altro teorema, o sarebbe meglio dire metateorema, perché qui appunto si intendono dei teoremi sulla logica e non di logica. Quindi arrivederci, al prossimo video, spero che possiate insomma gradire.